buona giornata a tutti da cacamero il diavo allevamento del lagotto da tartufo qua vicino alle nostre parti insomma nel tortonese abbiamo un famosissimo salumificio prosciutti sabione che fondamentalmente in qualche maniera riempiono le tavole di tanti tortonesi e anche rigore ma il rampollo della famiglia sabione fondamentalmente ha deciso di dedicarsi probabilmente ad altro quindi abbiamo Gabriele che ha deciso di diventare un tartufaio e quindi sono venuti a trovarci e abbiamo cercato con attenzione di dare il cane giusto, il cane adatto a lui Gabriele mi diceva che ha uno zio che andava a tartufi, vero Gabriele? Sì, sì E quindi cosa ti piacerebbe fare? Andare a tartufi? Sì, andare a tartufi Sono assolutamente zone evocate quindi abbiamo trovato la bella Vilma che sicuramente dopo l'addestramento del Dertone e della Full Academy li farà sicuramente scoprire il territorio ancora in maniera più importante e trovare dei bei tartufi abbiamo già iniziato l'avviamento a bianchetto e quindi sono convinto che farà una gran bella figura Mettila giù Bella Vilma Ecco, quindi allora giusto due parole Gianluca mi dirà come ci ha trovato ma probabilmente perché ci siamo vicini Io vi ho trovato via internet cercando trovato per trovare un allevamento di ragotti era il primo migliore Ci sei venuto a trovare due o tre volte, insomma abbiamo scelto l'attenzione Ok, diciamo se Gianluca ha da dire qualcosa altrimenti ci salutiamo Buona giornata in bocca al lupo Fantastico, fantastico, fantastico Va bene, alla prossima ti verrà a trovare vi darò una mano anche nel, come dire, nell'approfondire le qualità e migliorare le qualità della piccola Vilma A presto